Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, puntata numero 489 del Festival Italia in Musica. Il ritmo è sempre lo stesso che forza la musica, un applausone alla musica che riesce sempre a darci dei momenti di evasione e di spensieratezza. Questa è una puntata da non perdere assolutamente con tanti amici, tanti ospiti, tanta comicità, tanto divertimento, due ore di spensieratezza e di serenità. Passo subito a presentare gli ospiti, i miei compagni di viaggio e i miei cari amici. Parto da Marco Tana. Buonasera, buonasera. Finalmente è tornato il mio fratellone Gianni Nazaro. Gianni. Super applauso. La coppia delle coppie, della comicità e del divertimento e sequestrattori. Ciao, grazie. State facendo tante ricette, Barbara, ma ne parleremo, ne parleremo. Un numero uno della televisione, dello spettacolo, della musica, della discografia, degli uffici stampa. Un fuori classe, Elio Cipri. Grande Elio. Allora, avete potuto vedere, abbiamo iniziato senza il balletto, quindi non c'è stata la sigla. Siamo tutti seduti, giustamente per rispettare al massimo, quindi al pieno, le regole. Comunque, ci divertiremo, balleremo sulle poltrone, canteremo a squarciagola, rideremo. E quindi siamo pronti per iniziare la puntata? Siamo pronti? Sì, prontissimi, dai.